Buongiorno a tutti voi, è mercoledì 31 agosto, il momento della rassegna stampa, sono le 7 del mattino. Allora le notizie principali, naturalmente si continua a parlare dell'emergenza gas. Da oggi fino a sabato hanno annunciato le autorità che gestiscono il gasdotto Nord Stream che dalla Siberia porta il gas fino in Germania. Verrà interrotta l'erogazione, verrà sospesa per lavori di manutenzione. Peraltro hanno annunciato anche la sospensione dell'erogazione del gas verso la Francia fino a settembre per i mancati pagamenti finora da parte di Parigi. E naturalmente l'emergenza gas, lo sapete ormai da giorni la stiamo trattando, caratterizza il confronto politico tra le forze politiche, le richieste che arrivano al governo di intervenire anche, come hanno detto alcuni leader politici, con uno scostamento di bilancio e intervenire appunto sulle imprese, sulle famiglie che si troveranno a dover pagare questi rincari. Questo per quanto riguarda le vicende legate al gas, poi restando però sempre all'estero da oggi e fino a sabato inizierà l'ispezione degli ispettori della IEA sulla centrale nucleare di Zaporice, che vi ricordo è la centrale più importante d'Europa. Non ci sono le condizioni di massima sicurezza come ci si aspettava, perché ieri ci sono stati alcuni bombardamenti sui corridoi aperti proprio per arrivare nell'area della centrale nucleare. Sono partiti da poco e si stanno recando proprio lì, queste sono le notizie battute dalle agenzie. E poi la notizia di ieri della scomparsa di Mikhail Gorbachev, è stato il protagonista della perestroica e della Glasnot, fu insegnito anche del premio Nobel per la pace, naturalmente c'è il cordoglio unanime di tutti i leader mondiali, ma ci sono anche moltissime altre notizie, andiamo a trovare, partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, il titolo d'apertura è quello sul gas, lo vedete insieme, pressing dei partiti, un altro stop a Nord Stream, come vi dicevo, e poi l'Unione Europea presso misure d'emergenza, il prezzo cala, e poi in alto ci sono anche i commenti dei politici, Salvini, un decreto da 30 miliardi è quanto chiede sul modello francese, peraltro Meloni dice no a un nuovo debito, quindi allo scostamento di bilancio, riaprire le camere e poi i piani di Palazzo Chigi. C'è un'intervista a Silvio Berlusconi, l'andremo a leggere insieme, il titolo intanto Senza forza Italia l'alleanza non governa, e poi come vi dicevo l'addio a Mikhail Gorbachev, addio a Gorbachev che cambiò il mondo, ultimo leader sovietico, è morto a 91 anni, guidò le riforme e chiuse la guerra fredda. Così il Corriere della Sera, vediamo la Repubblica, destra divisi su tutto, Meloni vuole Palazzo Chigi, dal palco insegue i voti populisti, le migranti alla guerra in Ucraina, i contrasti con Salvini, la strategia di Conte per sedurre gli scontenti del PD, la riforma dei collegi aumenta il peso elettorale dei centri di provincia. C'è un'intervista a Emma Marcegaglia, lo sapete, è stata Presidente della Confindustria, quindi sarà importante sentire che cosa dice a proposito di questa emergenza del gas. Il titolo comunque c'è il rischio, avverte di una lunga recessione. La fotonotizia ritrae Mikhail Gorbachev, ultimo Presidente dell'URSS, morto a 91 anni, l'uomo che cambiò la storia, così lo ricordano Ezio Mauro e Rosalba Castelletti. Vediamo la stampa, vola Fratelli d'Italia, Conte aggancia Salvini, Euromedia Research, Fratelli d'Italia sarebbe al 21,6%, il PD al 23,1%, energie e inflazioni, i veri timori degli italiani. Poi, anche in questo caso, vi segnalo queste due interviste all'interno del giornale. Una Elsa Fornero, sinistra incapace di un messaggio forte, poi Provenzano del PD, destra unita soltanto contro i più poveri. La foto, Mikhail Gorbachev, in questo caso è l'uomo della perestroica. Vediamo il messaggero, spinta dell'Unione Europea per il tetto sul gas, se lo sapete, se ne sta parlando da giorni, è il cosiddetto price cap, appunto il tetto sul rincari del gas, spinta UE per il tetto sul gas, ma le città saranno più buie, limiti al prezzo per il metano delle centrali, un piano per i razionamenti. L'intervista a Boccia, che in questo caso non è l'esponente del PD, ma di Confindustria, dice che occorrono 60 miliardi per evitare la paralisi. Mikhail Gorbachev, il democratico della Piazza Rossa, e poi il messaggero torna a parlare della vendita d'Italo, sapete, è stata l'azienda con il nuovo nome di Alitalia, cambia tutto, Air France Delta adesso è in pole, il tesoro avrebbe scelto la cordata guidata dal fondo americano Sertares. Oggi l'annuncio, vediamo se sarà così. Vediamo il sole 24 ore, quotidiano della Confindustria, scattano i primi fermi produttivi, Confindustria e le imprese e le aziende sono quelle che sollecitano maggiormente un intervento proprio per frenare questa emergenza. Buon nome, il presidente di Confindustria, dice imprese in difficoltà gravi. Allora, il leader di Confindustria dice le aziende hanno fatto miracoli, è mancata l'Europa, quindi è un vero e proprio atto d'accusa. E poi l'industria dei pannelli in legno spegne le macchine, parte la cassa integrazione. Questo è quanto appunto denuncia Confindustria. Vediamo il fatto quotidiano. Bocciati i migliori, leggi scritte con i piedi, extra profitti aiuti, due norme sbagliate. L'una ci fa perdere 9 miliardi, l'altra è senza coperture. Così scrive il fatto quotidiano. Abbiamo il tempo di vedere la prima pagina del domani. Dell'Utri Junior finanza Meloni. L'azienda gira 10 mila euro a Fratelli d'Italia. E poi sotto c'è questa foto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il decreto bolletta è pronto. Approvarlo, dice, è un problema dei partiti. E allora diamo la linea alla regia. Ci vediamo dopo qualche istante di pubblicità. Noi siamo qui e vi aspettiamo. Sette e dodici minuti ben ritrovati. Allora, con l'aiuto della regia, andiamo subito in Pakistan. Guardate, queste immagini arrivano in diretta. Perché? Perché non se ne parla forse abbastanza, ma è una vera e propria tragedia quella che ha colpito questo Paese. Finora ci sono state oltre 1.200 vittime. Di queste più di 300 sono bambini. Perché? Per le inondazioni che hanno colpito il Paese. Il Paese è davvero in ginocchio. Ieri c'è stata una richiesta di aiuti. Servono almeno 10 miliardi di dollari per una prima ricostruzione. Venerdì prossimo si riecherà nel Paese il segretario dell'ONU Guterres per rendersi conto proprio di persona della situazione che sta vivendo questo Paese. Guardate, queste immagini non sono abbastanza rappresentative, ma danno il senso di quello che sta accadendo. Vedete, questa presumibilmente era una zona di un centro abitato, di un villaggio. Guardate la strada, quello che era del collegamento, che cosa è ridotto. Ci sono delle piogge così che non si verificavano da non so quanti anni. Tutto dovuto allo scioglimento indirettamente dei ghiacciai, del quale è ricco comunque il Paese e le montagne alte di questo Paese. Torneremo naturalmente a parlarne, a seguire questa vicenda nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Torniamo alla lettura dei giornali. Andiamo sul giornale. Il titolo d'apertura è sul gas che soffoca il nord. Allarme dell'imperese, extra coste a 40 miliardi. Rischio deindustrializzazione, Mosca chiude Nord Stream 1. La crisi, colpa delle sanzioni, la controoffensiva Ucraina ora spaventa Putin. E poi Mikhail Gorbachev, il migliore dei comunisti, che ha seppellito il mostro sovietico. Ancora altri giornali. Libero, allarme democrazia. L'apertura è sul Covid. Guardate, 660 mili italiani esclusi dal voto. Speranza, il ministro della Salute, tarda a firmare la circolare per liberare i positivi e asintomatici e permettergli di andare alle urne. Una distruzione o un'astuzia. Tra l'altro, vi ricordo che verrà firmata tra poche ore dal Consiglio Superiore della Sanità proprio una norma che riduce il periodo di quarantena da 7 giorni a 5 giorni per i positivi. La foto ritrae Donald Trump e Macron. Quell'urne di Donald spiate il francese. Trump si infilava nel letto di Macron. Così scrive Libero. Vediamo il manifesto. Missione a IEA in arrivo a Zaporizia. Parliamo di Ucraina. Sono in viaggio proprio per l'ispezione al sito nucleare. E poi però la fotonotizia è su Giorgia Meloni. Il buio oltre la fiamma. Meloni avanza verso Palazzo Chigi senza un programma con il suo obiettivo di rassicurare gli alleati che non sfascerà l'Europa e resterà fedele alla Nato. Due certezze. Proverà a eliminare i diritti LGBT in nome della famiglia naturale e toglierà il reddito di cittadinanza a un milione e mezzo di italiani. Sul blocco navale la sbugiarda ha anche il suo nordio impraticabile. Così scrive il manifesto. Vediamo la verità. Morandi. Il piedaggio di autostrade. 600 mila euro per uscire dal processo. La tragedia del ponte di Genova non finisce. E a venire la foto è su Mikhail Gorbachev a difesa della vita ma il titolo in questo caso è sull'Ucraina naturalmente. Il Vaticano, dopo le parole sull'Ughina, ribadisce la lino manetaria di Francesco. La guerra ampia avviata dalla Russia è immorale, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega. E scusate se è poco. E sotto il titolo su Gorbachev, leader di pace. E allora queste le prime pagine. Andiamo a vedere gli approfondimenti. Naturalmente partiamo dalla questione del gas, dall'emergenza. Andiamo a pagina 3 del Corriere della Sera. Il titolo subito sostegni per 10 miliardi alle imprese a rischio. Draghi stringe sulle coperture. Allora andiamo a vedere in questo efficace specchietto le risorse. Dice in un anno il governo ha erogato aiuti per 49,5 miliardi, sostanzialmente 50 miliardi. Ha messo in campo interventi contro il caro energia, appunto per 49,5 miliardi, piazzandosi al secondo posto dopo la Germania. L'ultimo decreto dice che nell'ultimo anno il prezzo del gas è salito, pensate, di circa 10 volte. L'ultimo decreto, il cosiddetto aiuti bis, che stanza aiuti per 14,3 miliardi, appare già insufficiente rispetto al caro bollette. E poi le richieste dei partiti. In campagna elettorale tutti i partiti stanno chiedendo al governo Draghi massicci nuovi interventi nell'ordine di 30 miliardi, ricorrendo se necessario all'aumento del deficit, sostanzialmente quello che viene definito lo scostamento di bilancio. E poi la posizione del governo. Il preve Mario Draghi è contrario appunto allo scostamento di bilancio, cerca almeno 10 miliardi per nuovi aiuti, priorità alle filiere produttive che consumano più gas. Questa, in sintesi, la posizione del governo. Sempre sul Corriere della Sera c'è un'intervista interessante al presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce, e dà alcuni consigli, alcune raccomandazioni per cercare intanto di risparmiare. Allora, dagli elettrodomestici all'acqua calda, dice possiamo risparmiare 7 miliardi di metri cubi. E allora dice quali sono questi consigli, vado così in sintesi, si dice che cominciamo con ridurre la durata della nostra doccia di due minuti e riduciamo di 3 gradi la temperatura dell'acqua. Chiudiamo l'acqua quando ci insaponiamo. Se lo facessimo tutti, da oggi avremmo, pensate, circa un miliardo di metri cubi di gas risparmiati da qui a fine marzo. E poi ancora, dice, utilizziamo gli elettrodomestici solo a pieno carico, lavatrici, lavastoviglie, e riduciamo il numero dei lavaggi, facendolo 300 milioni di metri cubi di gas ridotti in poco tempo. E poi stacchiamo tutti gli apparecchi elettronici quando non li usiamo, dalla tv al decoder, dai computer alle lavatrici. Anche qui si risparmiano diverse centinaia di metri e cubi. Insomma, sono dei consigli per chi non è a conoscenza decisamente utili. Andiamo su Repubblica. A pagina 8 il titolo. Ristoria le imprese e per ridurre i consumi torna allo smart working. Queste sono naturalmente ipotesi. Le misure, uffici pubblici, il governo valuta la possibilità di mandare i dipendenti pubblici smart working in caso di emergenza gas. Quindi non è una decisione, è un'ipotesi naturalmente. Riscaldamenti. Ritardare di 15 giorni l'accensione dei riscaldamenti porterebbe un risparmio del 17,5%. E poi le imprese cosiddette energivore, cioè quelle che consumano molta industria. L'industria manufatturiera avrà 50 miliardi di extra coste energetici di cui la maggior parte è pagata dai settori energivori. E poi l'illuminazione pubblica. Il piano di emergenza del governo prevede di intervenire proprio sull'illuminazione pubblica. Già ora è prevista la possibilità di ridurla nelle aree urbane fino al 40% in meno. Quindi quasi la metà di quello che viene normalmente consumato. Sempre su Repubblica, ma a pagina 9, abbiamo un'intervista a Emma Marcegalli. È stata Presidente della Confindustria, quindi è importante sapere che cosa dice. Solo il tetto europeo eviterà la recessione. Il cosiddetto price cap, il tetto all'aumento del gas. Dice che gli industriali del nord parlano del rischio di desertificazione industriale. Dice sì, questi prezzi dell'energia per un paese manufatturiero come l'Italia non sono sostenibili. Le nostre imprese devono competere con quelle americane che pagano sette volte meno, ma anche con spagnoli e francesi che hanno prezzi calmierati. I rischi di non stare sul mercato e di chiudere sono concreti. Questo si aggiunge all'allarme povertà per le famiglie. Bisogna agire subito, così dice. C'è un'intervista a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, parlando di politica. Naturalmente ci spostiamo sui temi prettamente più politici. Il titolo, senza Forza Italia la destra non governa, subito una flat tax al 23%. E ancora, andiamo avanti con le interviste. Il Corriere della Sera, pagina 9, ce n'è una a Zingaretti, il governatore del Lazio, gli avversari divisi su tutto, coloro più in giustizie. La scelta è il Movimento 5 Stelle, non gioisco. E poi, un'intervista a Di Maio, sempre sul Corriere della Sera. Ormai è chiaro sulla Russia, Meloni non riesce a imporsi sui suoi alleati. Abbiamo anche un'intervista, e vi segnalo, sulla stampa a Giuseppe Provenzano. La destra è unita solo contro i poveri. Sul lavoro il PD ha corretto gli errori. Ancora, cambiamo argomento, andiamo a parlare di Ucraina, perché c'è un'intervista a una volontaria italiana che combatte con le truppe ucraine. Si chiama Giulia Schiff. Ho rischiato di morire per la nostra libertà. Dice qui, ho trovato l'amore. E poi, naturalmente, molti approfondimenti sulla morte di Gorbachev, l'uomo che cambiò la storia, lo ricorda così Ezio Mauro. Voglio segnalarvi quest'ultima notizia, però, che riguarda l'amianto. Forse Paolo, al quale do il buongiorno, naturalmente si ricorderà le questioni legate proprio alla morte di alcuni militari a causa dell'amianto. Allora c'è una sentenza. Un militare morto per l'amianto sono stati concessi 1,3 milioni alla famiglia, di fatto riconoscendo che c'era un nesso di causa-effetto tra la morte del militare e l'amianto. Paolo, ci aspettano piogge, più o meno. Ieri ci hai anticipato, quindi non so che domanda, ma lo scopriremo tra poco che tempo avremo. A te, Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Fabio. Piogge sembrano, la mattina, se uno vedesse solo la previsione della mattina e poi vivesse da un'altra parte, diceva, vabbè, di piogge non ce ne sono molte. Alle 8 vi farò vedere, per conferma, ma chi abita lì lo sa benissimo che cosa c'era ieri pomeriggio al nord, dove erano previste molte piogge e temporali. Allora, al momento c'è qualche pioggia sul Mar Ligure, a toccare anche l'Alta Toscana, qualche pioggia interessa anche il nord-est. Vedete quella zona bianca che si vede lontano, apparentemente lontano, a ovest, a sinistra? Beh, quella ci porterà qualche cosa anche oggi. E quindi vediamo la previsione per la giornata di oggi e vedete che anche nelle zone dove al momento non c'è molto, quindi segnatamente il sud e il centro, qualche fenomeno si affaccia. In prevalenza debole il colore verde, ma localmente qualche zona temporalesca, quella con i colori gialli, fra il giallo e il rosso, si affaccia anche al centro-sud. Al nord ancora c'è questa presenza, sicuramente meno rispetto a ieri su alcune zone del Veneto, dell'Emilia, della Lombardia, però queste macchie colorate, che appunto sembrano una cosa di festa, in realtà non lo sono, interessano molto bene l'Appennino settentrionale, il nord-ovest, quindi Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino, in parte il Friuli, la Liguria, quindi i temporali ancora per oggi ci sono. Giornata di domani, cosa cambia? Beh, questa instabilità si attenua molto al nord, ne restano delle tracce sicuramente, ma rispetto a ieri e rispetto a oggi sicuramente meno. Invece si intensifica al centro e su buona parte del sud, vedete queste zone davanti alla Campania e poi le zone interne, insomma i temporali ci sono, l'instabilità sarà quindi molto forte e vediamo anche la giornata di venerdì in cui si attenua molto questa instabilità al sud, al centro-sud, restano in prevalenza piogge deboli, qualche precipitazione sulle zone alpine, ma questo sarebbe normale, la Liguria ancora con delle piogge, a ovest, a sinistra sulla Francia, vedete che ancora temporali ci sono. I due flash finali, qui non è cambiato molto, le temperature minime, siamo più o meno in media e lo stato dei mari assolutamente tranquillo con l'eccezione del canale d'Otranto e dello Ionio a largo che possono essere localmente mossi, ma insomma lì la situazione è decisamente più tranquilla. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angiolicchio, più tardi.